ciao fantastico un gran sorriso nonostante il peso che si porta sabato di nato siamo in compagnia di giovanni giovanni da dove arrivi fantastico cosa sta succedendo a questo momento in poi alla tua vita tutto normale cos'è quello di un pc portabile un notebook uno scrigno del nuovo lo smartphone è incredibile con la catena l'anti intrusione una nuova applicazione di giovanni di trento giovanni ti sposi vero purtroppo di una sincerità ed è ancora sobrio allora giovanni aspetta aspetta aiutaci un pochettino a dare il migliore profilo di te non quello di facebook ma quello della tua persona arrivi da trento ti sposi con martina ho preparato ho preparato quanto dopo quanto sabato prossimo dopo quanto il 2 settembre a dopo quanto il 2 settembre perfetto lui avanti da quanto tempo che è stato insieme 7 anni bravo ecco i sette oggi stasera veramente sbanca perché altri amici si sposano tutti dopo questa durata guarda guarda lì in camera in camera da letto allora mi raccomando ricordati di dire sì sì dai vedi allora salutiamo i ragazzi a casa e in particolar modo la tua bella è entusiasmo mille salutiamo giovanni amici di trento con lo suo smartphone 2018 altro che edition nuovo nuovo grande giovanni carico giovanni detto betolle grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.